Un buongiorno a tutti gli utenti e benvenuti al consueto appuntamento con Piana Stampa dalla segna stampa di Inquieta Notizie. Oggi, giovedì 19 dicembre, cominciamo sfogliando le pagine di Gazzetta del Sud che titola Fondi per i trasporti nello stretto avviato l'iter perché l'area si è dichiarata patrimonio dell'UNESCO. In alto, San Pietro di Carità accoltella suo fratello e finisce ovviamente in carcere. All'interno di Gazzetta del Sud abbiamo qualche problema con la visualizzazione di una immagine. Vediamo se riusciamo a risolvere questo problema. Ora pure la Pallavolo darà un contributo per celebrare la varia con un torneo femminile nelle città delle feste, in articolo di Arcangelo Badolati. E poi c'è la foto della squadra di Pallavolo di Palmi che affronterà le scuole di Pallavolo delle altre città entrate nella rete delle macchine a spalla. Omicidio raso, il giudice ammette i testimoni per l'incidente probatorio. Rizziconi, il bracciante agricolo, è stato assassinato l'11 marzo scorso a colpi di pistola. Sarebbe stato ucciso dal cognato Vincenzo Tropeano dopo una lite a Gioia Tauro Stalking in realtà siamo a Rosarno, operaio arrestato appunto a Rosarno atti persecutori nei confronti dell'ex moglie a Ferroleto avrebbe bruciato l'auto a una maestra. Un uomo finisce in manette. Sferra una coltellata al fratello per futili motivi la notizia richiamata anche in prima pagina San Pietro di Carità, Pino Lamari, è stato bloccato dai carabinieri con l'accusa di tentato omicidio e in breve a San Ferdinando una festa natalizia nella casa di riposo rifiuti l'appalto e piano ambiente Bellofiore alza i toni contro la CGL il primo cittadino replica muso duro e contesta la ricostruzione del sindacato diffuse notizie faziose e infondate sulla riassunzione dei lavoratori a Rosarno il centro per riempiego riapre un servizio importante uno sportello di assistenza e informazione e a Cittanova sui tributi del comune l'assessore D'Angeli replica a Fera San Ferdinando il consiglio non riflette la volontà degli elettori questa è l'analisi dei consiglieri Costa e Oliva Torianova rivolta contro la stangata ecco tutte le ingiustizie della Tares maggiorazione iniqua ignorate dei servizi e le conseguenti riduzioni i cittadini stanno ricevendo gli avvisi di pagamento ma le scelte del comune non convincono Palmi assolto dall'accusa di rapina e condannato per favoreggiamento la sentenza della Corte d'Appello e a Palmi al processo i motivi della rissa e l'omicidio del ganese Torianova ha rimosso il cavallo morto e lasciato sulla strada una notizia che aveva interessato in questi giorni tutta la comunità il cavallo che era rimasto la cui carcasse era rimasta prima di vita da oltre 5 giorni sul ciglio della strada provinciale che collega Torianova con Polistena passiamo alle pagine del quotidiano della Calabria parchi e mazzette in otto a giudizio la decisione del gruppo di Catanzaro sull'affare eolico sotto processo anche Nicola Adamo ex vicepresidente della Regione Pianambiente scontro sul bando dopo la CGL e anche l'opposizione all'attacco del sindaco di Gioia consiglio urgente per chiarire le modalità e criteri di attuazione del servizio rifiuti la replica del sindaco lavoratori svantaggiati non è vero che manca la clausola di salvaguardia giocatavolo il comitato fiume vuole Aldo Alessio primo cittadino petizione online per la candidatura torni alla guida della città contro la povertà e per il lavoro gli appuntamenti a Cittanova il lato 2 del Natale Caino e Abele a San Pietro di Carità l'Itetra Fratelli finisce intentato omicidio arrestato il più piccolo un coltello a serramanico infilzato nel petto a pochi centimetri dal cuore tre testi per l'omicidio raso il procedimento accolta la richiesta di ammissione dell'incidente probatorio scavalcato il PM che si era opposto all'attività integrativa ad indagine punto della difesa nel delitto di Rezziconi brevi in carcere pre-stalking a Rosarno a Molocchio armi senza autorizzazioni e a Feroleto incendio auto finisce in cella queste alcune notizie di cronaca botte in risposta sui tributi Cittanova l'assessore D'Angeli replica a Fera comodato d'uso indirizzi recepiti solo a Cittanova e infine il concerto l'orchestra di Laureana suona per i detenuti del carcere di Palmi iniziativa alla casa circondariale anche oggi non è giunta in redazione la copia dell'Oro della Calabria per cui termina qui questa edizione di Piena Stampa che torna domattina alle 8.30 come sempre subito dopo il caffè a voi tutti da Lucio Rodino l'augurio di una buona giornata ciao 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 ciao